Aspettate, aspettate, mi serve un po' di spazio. Brava, 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 rica. Grazie mille per il terzo mese. Mamma mia, che ruggito potente. Io come faccio, qua non riesco più a giocare dopo questa, va, ne la faccio. Ah, fra, mi sai che tu sei un fa di Ariana Grande, mortacci tua? Fammi te, Michael, scusami però. Sembri tipo un clicker. Guarda, sta cosa mi fa a cappone alla pelle. Sì, è lui, è lui, è lo stesso. Lory, mi sento la finestra davanti, hai visto, Angelo, come è stato bravo, Lory? Presa la mira, precisa la finestra, ho piato. Eh, vabbè. Ciao, Zik. Ragazzi, avete visto come è laggato? Gua, regà, mamma mia, regà, mamma mia. E niente, lo sto laggando, e niente. Vabbè, basta, non mi lamento. Se ci muoio o non è una scusa, è la. Almeno ce le scuse, però. Aspettami queste a me, perché sennò non mi rimane niente, è solo zero. Ragazzi, però la dovete clippare, voi dovete clippare le cose belle, vero? Andiamo. Oh, cecchino. Cecchino, no, 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 no. Ragazzi, dovete clippare questo, vero? Oh, ma che è? Oh. L'ho preso! Ma... L'ho preso! L'ho preso dalla sua... Collaccia missili! L'ho preso, non ci posso credere!